Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e quest'oggi vi voglio portare una news sulla nuova offerta del Playstation Plus è un'offertona secondo il mio avviso ma prima di partire voglio ringraziare TNT Records per la concessione delle sue colonne sonore quindi cominciamo ragazzi allora come abbiamo visto c'è questo sconto questo buono sconto diciamo secondo me è un buono sconto di 16 euro per un abbonamento Playstation Plus per un anno ragazzi quindi secondo me è un'offertona da non lasciarsi scappare anche perché si ok la Sony fa parecchie offerte come state vedendo Playstation Plus dei soft play e cazzi e mazzi allora questa offerta insomma ragazzi è valida fino al 22 giugno a mezzanotte del 22 giugno e potete anche comprare se magari avete un Playstation Plus ragazzi come vi sto facendo vedere potete anche comprare questo abbonamento e alla scadenza del vostro abbonamento attuale che sia di un mese che sia di sei mesi che sia di tre mesi questo qui entrerà in funzione in pratica come se l'aveste appena fatto quindi comunque ci tenevo a farvi sapere questa cosa spero che la notizia vi sia stata utile lasciate un bel like iscrivetevi al canale grazie per i 3000 iscritti ragazzi un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti